Ciao, io sono Edoardo Marcozzi, co-founder di Chainside. Chainside è un gateway di pagamento che abilita i merchant ad accettare pagamenti in criptovalute. Il nostro sistema funziona semplicissimo, funziona o tramite web, quindi chiunque abbia un e-commerce può attaccarsi alle nostre API ad accettare pagamenti in criptovalute in maniera istantanea, oppure su negozi fisici, quindi attraverso un web post che noi facciamo scaricare attraverso gli store. Applichiamo anche servizi di instant exchange, quindi tutti i merchant che accetteranno pagamenti in criptovalute, frizzeremo il tasso di cambio al momento della transazione e i merchant si troveranno il corrispettivo in euro nel loro conto corrente.